Noi italiani rispondiamo al telefono dicendo pronto, ma per quale motivo lo facciamo? Perché diciamo proprio pronto? Ebbene, non esiste una risposta certa a questa domanda, ma una delle ipotesi più accreditate è quella che ci dice che questa abitudine addirittura nasce all'inizio della telefonia, quando appunto nei primi tempi tutti i collegamenti si facevano tramite l'operatore. Le centraliniste prendevano la linea e poi avvertivano quando il collegamento era pronto. Interessante, vero? Veniamo ora a